Quando iniziai io a praticare karate, il kumite era completamente diverso, erano diversi i tempi, le distanze, il modo in cui i due avversari si interfacciavano, il modo di muoversi sul tatami, era proprio diverso il modo di approcciarsi al kumite, erano diverse persino le protezioni. Quindi mamma mia, odio iniziare un discorso, una frase con il quando iniziai io, così mi fa sembrare veramente una persona di altri tempi o una persona con un'esperienza di secoli. Ma fatto sta che fra tutte le varie modifiche, i vari aggiornamenti, le varie trasformazioni che il karate ha vissuto negli ultimi vent'anni, il kumite è stato quello che di fatto ha subito le trasformazioni maggiori, che è stato più profondamente modificato, sia sotto un punto di vista di regolamento, di modo di muoversi, di tecniche, che sotto un punto di vista di approccio, diciamo, filosofico alla disciplina. E allora oggi mi piacerebbe parlarti di che cos'era il kumite una volta, di che cos'era il kumite come una volta, perché era un tipo di pratica molto profonda, molto bella, che spero non si vada a perdere. E che alla fine di questa puntata mi auguro tu abbia quantomeno la voglia e la curiosità di provare. Io sono Eugenio Credidio e questa è Karatepedia. E benvenuto alla puntata numero 94 di Karatepedia, il 5 maggio 2023 alle 7 del mattino, puntuali come i karateka che sono schierati in fila per fare il saluto, pronti per iniziare ad allenarsi. 94, ne mancano 6, mamma mia, mi viene la pelle d'oca a pensare che tra un po' questo progetto, durato praticamente due anni fra alti e bassi, forse anche qualcosina di più, arriverà alla sua fine. Da un lato sono molto triste, perché sono sicuro che mi mancherà, mi mancherà tantissimo, ma non è detto che qualche puntata spot non venga fuori. E da un altro lato invece sono felice, perché ci sono tante cose che mi frullano per la testa, che ho in mente di fare sul canale YouTube, e che non ho la possibilità e il tempo di fare dovendo portare avanti questo progetto qua. Quindi, come sempre, ogni fine è un nuovo inizio. Io non vedo l'ora di arrivare alla fine, gustandomi quello che ci resta di questo viaggio assieme, per poi prenderci un po' di fiato e riniziare con dei nuovi viaggi assieme. Tra l'altro, i ragazzi dell'Accademia Online mi hanno suggerito un paio di argomenti, un paio di format, chiamiamoli così, meravigliosi, che farò il possibile per andare a sviluppare. Ma intanto diamo il benvenuto al mio co-host, al mio co-DJ. Maestro Miyagi, c'è? Dai, la cera. Buongiorno, maestro. Togli la cera. Buongiorno. Lei è contento che siamo addirittura d'arrivo? No, 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 no. Le mancherò, vero? Le mancherò. Anche a lei. Anche a lei mi mancherà tantissimo. Però, oh, non è detto che non sia l'ultima volta che lavoriamo assieme, no? No, 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 no. Bene, 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 bene. Allora, riferimenti, i riferimenti, le mie coordinate, così che anche arrivati alla fine di questo viaggio assieme, tu possa continuare a rimanere in contatto con me e anche a scrivermi, perché no? Intanto ti ricordo che tutte le puntate di Karatepedia sono presenti sul gazzettino del dojo. www.dojoshinsui.com, che è il mio dojo, slash gazzettino del dojo, oppure da qualunque pagina del sito puoi tranquillamente arrivarci. Lo trovi in alto nel menu vicino, se non mi ricordo male, alla sezione dedicata al materiale gratuito. Lì trovi tutte le puntate di Karatepedia, ben ordinate, trovi anche tutti gli altri podcast che ho prodotto, i video, le 50 lezioni di karate, insomma, trovi veramente tutto e hai la possibilità, come ti dicevo, di scaricare il materiale gratuito, il videocorso gratuito, per esempio, sul karate, ma poi lo rinciccerò, perché anche qui ho un sacco di cose che mi frullano per la testa, ma il tempo è tiranno e non si ha la possibilità di fare sempre tutto. Poi ti ricordo che esiste un meraviglioso canale Telegram, ti.me slash karate anywhere, dove quasi ogni giorno pubblico un piccolo podcast su quello che è essere un insegnante di karate, la vita dietro le quinte nel dojo, e hai la possibilità di lasciarmi anche un commento diretto a ogni nota audio che pubblico, e se vuoi cercami anche su Telegram, Sensei Eugenio dovrebbe essere, se non mi ricordo male il mio account, chiocciola Sensei Eugenio su Telegram e mi trovi. E se vuoi, perché no, puoi anche scrivermi un email se preferisci prenderti un po' più di tempo, eugeniochioccioladojoshinsui.com ma tutti i riferimenti sono sempre in descrizione del podcast o del video, qualora tu stia guardando il video su, stia ascoltando, perché sempre in forma audio è, il video su YouTube. Ma non dimentichiamoci, questa è una cosa molto importante a cui tengo, che hai la possibilità da qualche settimana a questa parte di abbonarti al canale YouTube e di diventare membro ufficiale della ciurma dei pirati del karate, il gruppo di karateka Liberi Pensatori, che hanno accesso a molto materiale riservato, per loro pubblico quegli approfondimenti un po' particolari, che danno davvero, diciamo, un po' di più rispetto a quello che pubblico sul canale YouTube in forma aperta, perché lì veramente andiamo in profondità sulle metodologie, i lavori che si possono fare, le metodologie di allenamento, la parte anche riguardante le scienze motorie, quindi lì mi riservo del materiale un po' più prezioso, ecco, lì c'è veramente il forziere dei pirati col tesoro e inoltre i pirati hanno anche la possibilità di partecipare alle live riservate, di avere le registrazioni delle live riservate e di accedere a una newsletter riservata, quindi un sacco di belle cose, oltre al meraviglioso badge per chi fosse iscritto. Per cui io ti invito ad abbonarti, mi darei una mano a sostenere questo, veramente una cifra mensile esigua, a portare avanti questo progetto e avrai la possibilità di imparare tante belle cose che di solito non si ha o il tempo di andare ad analizzare al dojo o la volontà, alle volte, diciamoci le cose come stanno, la volontà di andare ad analizzare durante la nostra pratica. Ma adesso bando alle ciance e iniziamo, perché questa puntata è di nuovo una di quelle che avevo in canna da un po' di tempo, perché, sì maestro, perché come sai se mi segui da un po', il 25 marzo di quest'anno ho organizzato uno degli stage riservati appunto ai pirati del karate e agli iscritti all'accademia online e ho fatto un sondaggio per sapere qual era l'argomento che gli avrebbe sconfinferati di più. What's that? Dimmi quanti insegnanti fanno lo stage sulla base delle richieste dei propri allievi. Nessuno, te lo dico io. Ed è venuto fuori, venne fuori con mio grandissimo stupore che i ragazzi volevano praticare kumite. Io pensavo volessero lavorare sulla difesa personale per il karate piuttosto che sui kata e invece no, è venuto fuori che volevano praticare kumite. E allora benvenga. Abbiamo fatto questo stage bellissimo di kumite come una volta. E questa proposta ha creato delle reazioni, diciamo, agli antipodi, agli opposti, nel senso che da un lato ci sono state persone estremamente entusiaste, probabilmente quelle che appunto avevano votato questo tipo di approccio alla lezione. Io dico tu fai. Maestro, non è andata proprio così, perché dall'altra parte invece c'erano persone che per paura, per disagio nei confronti del kumite si sono tirate indietro, non hanno avuto piacere di praticare. nonostante alcune riflessioni che abbiamo fatto assieme e che penso fossero, mi auguro, fossero condivisibili. E allora, sulla base di questo e sulla base di alcune esperienze che ho vissuto in prima persona sul kumite, ho deciso di dedicare questa puntata a questa microbranca della nostra meravigliosa arte. E inizio subito col dirti che io oggi amo il kumite. Lo amo profondamente. Quando c'è la possibilità di fare kumite, come lo intendo io, sembro un bambino davanti a un negozio di caramelle. Sono proprio felice. Ma una volta non era così. Da ragazzino era una pratica che odiavo profondamente. Perché ne avevo paura. perché quando ero giovane io ti trovavi davanti, io, allora, intanto facciamo un attimo un excursus brevissimo. Io ho iniziato a praticare kumite a 11 anni, in maniera un po' più assidua, perché ruppi le palle al mio primo maestro per passare dal corso bambini al corso adulti. Perché io al corso adulti mi annoiavo. Eh già, eh già, eh già, eh già. Prima di allora il kumite era una cosa che i bambini praticamente non facevano. O facevano veramente in maniera super blanda e super giocosa, ma una volta ogni morte di papa, cioè era una cosa quasi, l'avremmo fatto due, tre volte all'anno se andava bene. Perché? Perché si riteneva, giusto o sbagliato, non sto giudicando, che il kumite fosse un'attività intanto che andava affrontata da un certo grado in su e che andava affrontata da una certa età in su, da una certa maturità in su. E per cui io di fatto andai al corso della cintura, il corso per gli adulti, che avevo una cintura blu, 11 anni, e fu lì che iniziai a praticare in maniera un po' più assidua, il kumite, un po' più continuativa. Perché prima facevo veramente poco e niente, quattro cose. E quando a 11 anni mi trovai sul tatami, davanti a delle marroni e delle nere, questi, non è che si fecero tanti problemi che io fossi piccolo o che io avessi dei gradi più bassi di loro. Questi tiravano e tiravano per colpire e per e per far male. È un problema di atteggiamento. No maestro, guardi, non era tanto un problema, sì, sotto un certo punto di vista sì, perché comunque c'erano anche all'epoca delle persone un po' esaltate, ma era anche proprio un approccio completamente differente rispetto a quello che si fa oggi. E il discorso era questo karate, se a te piace e lo vuoi imparare così, se no ti attacchi al tram e vai a fare un'altra disciplina. E io, figurati se, mollo. Per cui all'inizio per me la pratica del kumite era davvero qualcosa di un po' spaventoso. Poi, col tempo, maturando, crescendo e sotto alcuni punti di vista anche grazie al tipo di approccio che mi trovai a dover affrontare le cose cambiarono. Iniziai a imparare a tenere il tatami, iniziai a imparare a gestire meglio gli spazi, iniziai a imparare a fare kumite. E questa pratica iniziò a piacermi nonostante i livelli di tensione sempre altissimi perché davvero c'erano due o tre ragazzi che se ti pigliavano io mi sono spaccato un dito qualche volta qualcuno tornava a casa con costole rotte insomma era purtroppo era o per fortuna non lo so era una cosa un po' più da da eroi diciamo così rispetto a quello che magari si pratica oggi si usavano i paranocche con la spugnetta niente paratibie il paraciuffolo i paradenti e via questo era per cui era veramente un po' più impattante e già allora c'erano persone che ovviamente questa pratica non la non la non la condividevano ok non la condividevano perché beh perché appunto c'era un forte livello di paura e c'era la preoccupazione di farsi di farsi male e c'era il fatto che bisognava lavorare tanto su se stessi per salire sul tatami e e tenere il tatami non era non era così facile non era per niente così facile era era veramente un bel come dire una bella sfida con con se stessi direi proprio direi proprio di sì ma questo mi sa che l'ha tirata un po' un po' fuori un po' fuori tema va bene va bene la lascio dire che oggi mi sembra mi sembra comunque preso bene da questa cosa del comitè e quindi tu trovavi persone che appunto avevano difficoltà a salire sul tatami ma che a un certo punto si trovavano a questa specie di bivio cioè o imparavi oppure mollavi il karate negli anni negli anni poi vuoi perché c'è stata un po' di epurazione all'interno della palestra in cui andavo vuoi perché comunque non lo so forse il mio maestro di per sé crebbe crebbi io cambiarono un po' di cose il comitè e la pratica del comitè iniziò a cambiare un po' e divenne quantomeno per me sempre una pratica più volta all'introspezione cioè cosa vuol dire vuol dire che in realtà mi resi conto che il comitè mi dava la possibilità di mettermi davanti a un avversario che di fatto era uno specchio e che rifletteva le mie paure le mie insicurezze alcune problematiche che magari dovevo affrontare e mi permetteva di mettermi viso a viso con loro di interfacciarmi con loro e di affrontarle perché per esempio la paura dell'avversario non era tanto la paura che mi facesse male ma la paura dell'ignoto la paura del fatto che non sapevo cosa potesse succedere o la paura di non sentirmi all'altezza di quell'avversario lì e questo giocava tantissimo a livello di testa su quello che poi ero in grado di fare sul tatami e man mano che iniziai ad andare e man mano che andai avanti nella pratica di questa disciplina mi resi sempre più conto che ogni volta che salivo sul tatami avevo l'opportunità di studiarmi e di imparare cose nuove su di me perché in quel momento ho avuto paura perché non sono riuscito a fare quella cosa lì perché davanti a questa persona non sono tranquillo e davanti a quell'altra sì perché lo sguardo di quest'altra persona mi mette a disagio cosa devo fare per riuscire a trasmettere quello che loro trasmettono a me e allora col tempo il kumite per me è diventato davvero quello che è la traduzione della della parola stessa non uno scontro ma un incontro di mani un incontro di spiriti e una pratica in cui sì di sicuro la perizia tecnica e la l'abilità di mantenere il tatami e di di gestire il proprio avversario è importante ma quello che era più importante era imparare a lottare con il proprio spirito e alle volte anche contro il proprio spirito vincere o perdere non conta grazie maestro è vero perché alle volte tu magari quel kumite lo perdevi ai punti però poi tornavi al posto molto più arricchito molto più come dire ricco sì molto più ricco molto più consapevole cresciuto ed ecco che allora il kumite per me cambiò completamente sapore e divenne una forma in un certo senso di meditazione di di indagine di se stessi e divenne una pratica fondamentale al punto che si vocifera si narra che Funakoshi come probabilmente sai fosse contro alla pratica del kumite perché il kumite era solo per vincere o morire no non non dava che insegna a noi di buono l'uso del pugno niente è solamente un fatto di vita ecco come diceva il maestro Miyagi il kumite è una questione di vita o di morte e un kumite sportivo nel senso dove non devi uccidere o neutralizzare il tuo il tuo avversario è un kumite comunque falso a priori e quindi non va praticato ecco secondo me qui il maestro Funakoshi il caro Gichin prese un granchio perché una buona pratica del kumite invece credo sia fondamentale all'interno della pratica del karate proprio perché ti obbliga a scavare a andare alla ricerca e alla scoperta di alcune zone di te che probabilmente rimangono sempre in ombra nel kumite prima impari almeno questo è stato per me prima ho imparato a attingere alla mia bestia interiore al mio animale interiore a quella forza scriteriata illogica e magari difficilmente controllabile che ognuno di noi ha e che in alcune situazioni deve essere in grado di tirar fuori per poi imparare a gestirla veicolarla canalizzarla e eventualmente in caso di necessità forse anche a risbloccarla ho imparato che la calma anche in situazioni di grande stress e adrenalina spesso è quella che ti permette di gestire meglio la situazione ho imparato a sentire il compagno ho imparato che in alcuni momenti se impari a respirare a rilassarti a concentrarti il tempo quasi si sospende non esiste inizia ad andare a rallentatore e tu riesci a muoverti assieme al tuo avversario non contro il tuo avversario tutto svanito mondo intero esattamente maestro e questo è il più grande regalo che mi ha fatto la pratica del kumite tradizionale io dico tradizionale poi di sicuro ci sarà qualcuno che riuscirà a tirarmi le orecchie perché il kumite tradizionale probabilmente è diverso rispetto a quello che viene praticato nello shot che comunque era una forma di kumite sportivo ai punti bla 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 va benissimo ma concedimi questo questo termine ok e quindi si praticava il kumite come una volta quello che abbiamo cercato di praticare durante il nostro stage del 25 marzo era un approccio al kumite molto diverso molto più spirituale sotto un certo punto di vista molto più introspettivo non era tanto il portare a casa i punti era il sentire l'avversario il capire come portare a casa i punti e il capire perché non avevi portato a casa i punti ed è un kumite molto più statico molto più lento molto più di studio è una vera e propria partita a scacchi completamente differente non più bello non migliore ma differente da quello che è il kumite di oggi che è un kumite dove gli atleti perché di atleti parliamo e io ho difficoltà a vedere dei karateka lì dentro gli atleti fanno delle cose che sono meravigliose che io non sono in grado minimamente di di fare ma che ha dei ritmi che sono assai più veloci molto più tirati rapidissimi entrate uscite stoccate è veramente un un qualcosa che è completamente lontano da quel kumite con cui sono cresciuto io e che forse rispecchia sotto certi punti di vista un po' di più una un'epoca molto più rapida molto più veloce molto più dinamica il kumite di oggi è veramente l'apoteosi del gesto tecnico sportivo portato agli estremi con sti ragazzi che sono meravigliosi ma perde un po' di tutto quello che era lo studio l'approfondimento l'imparare a sentirsi a conoscere sì e a conoscere il proprio compagno perché credo che non si entri mai in intimità con qualcuno come quando si combatte con lui e quindi io oggi in questo podcast in questa 94esima puntata di Karatepedia sempre più vicini alla fine del nostro meraviglioso viaggio assieme ti invito segnai la possibilità se sei un insegnante ti invito a provare a rallentare a provare a tornare qualche volta magari non sempre a un kumite più lento più introspettivo più tradizionale ti invito a chiedere al tuo compagno di farti il grande onore di essere il tuo specchio e di aiutarti a immergerti dentro di te e ad affrontare quelle paure quelle insicurezze quelle avversità che la pratica del kumite può davvero aiutarti a quantomeno iniziare a scalfire se non proprio ad affrontare direi che per la puntata di oggi è tutto sono andato parecchio parecchio lungo mi aghi a buone speranze per te bene grazie grazie maestro e ha qualcosa da da aggiungere devi fare esercizio quello sempre maestro quello sempre e allora amici cari io ti vi do appuntamento a martedì prossimo per la puntata numero 95 di Karatepedia e come sempre fino ad allora vi auguro buona pratica se hai piacere di contattarmi all'inizio ho messo tutti i miei recapiti ma comunque li trovi in descrizione sul podcast nel podcast nel video oppure se vieni sul sito del dojo dojoshinsui.com e trovi tutti i miei recapiti senza problema e e ti aspetto nella ciurma dei pirati del karate spero che anche tu abbia piacere di far parte del nostro della nostra repubblica indipendente di karateka e liberi maestro Miyagi sayonara sayonara maestro un abbraccio da Eugenio come sempre buona pratica e ricordati che la più grande forma di pirateria è la condivisione della conoscenza trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com 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 o www.dojoshinsui.com